buongiorno buongiorno amigli e anche quest'oggi allora innanzitutto prima di dare il fiato alle danze del godimento vi invito tutti ad iscrivervi al canale va bene perché in settimana preallerto già il buon bepi ok hashtag buon bepi con due n scrivetelo tutti nei commenti perché faremo un'altra puntata del processo anzi dell'arena dei butei il processo al campionato invece lunedì sera quindi vi invito ad iscrivervi assegnarvi le domande perché parleremo di tutto quello che sta per succedendo nella serie a però quest'oggi non da questo luogo dove il vino scorre a fiumi non posso non parlare del calcio valpolicella del verona di questo verona che continua a stupire virgola e a farci godere questo verona che io adesso esigo cioè non è quello esigo perché purtroppo ci sono avversari forti quotati e in rilancio però quanto ci piacerebbe vedere un ellas verona astana come ha scritto un nostro su twitter in europa league e non vi piacerebbe questo ellas verona in europa ma ma avete visto come gioca il verona e avete visto che di questo verona non si parla mai se non per peco grecce argomentazioni e pulviscoli e retorici nessuno che parla di un verona che se vince è sesto di un verona che se vince è sesto a tre punti dal sesto posto a tre punti dal sesto posto con una squadra che tutti i guru davano come già retrocedente che secondo molti stava già per retrocedendo ce la troviamo quasi sesta perché nessuno parla del verona il verona il nuovo john titor il mistero del calcio liquido ed egoinomane è perché nessuno parli di questo verona del veroneo andè in mona e forza verona allora io adesso le voglio sparare a parte il solito possesso palla da barcellona che fa il verona è una squadra che sta stabilizzandosi secondo me come squadra che rimarrà in serie all'anno prossimo a meno di clamorose sorprese ma questo verona può diventare una piccola atalanta non solo dal punto di vista dei risultati e del gioco che è molto simile ma anche dal punto di vista progettuale perché se è vero che siamo un po tristi per le cessioni di ramani amrabate quelle che magari ci saranno di kumbulla è anche vero che se la società lavora con maestria sul mercato come fatto quest'estate puoi avere ancora più risorse a disposizione di quante ne avevi quest'estate in cui comunque hai costruito una signora squadra quindi questo verona volendo volendo ha davanti un futuro roseo ha un mister che può aprire un ciclo ed è stato tutto fatto da zero con pochissime risorse mentre altrove si glorificano mercati fatti coi big money qui c'è una squadra che può aprire un ciclo ad altissimi livelli avendo speso poco ok ma con maestria ora è facile parlare di juric ed è anche giusto perché si sta rivelando un allenatore interessantissimo ma parliamo dei giocatori io adesso la sparo questo pessina è un giocatore da juventus è un giocatore da inter è un grande giocatore pessina è dell'atalanta se non sbaglio ma è un grande giocatore lo diciamo da quest'estate verre e pessina sono due potenziali campioni senza contare tutti gli altri che è in squadra è una cooperativa del gol il verona segnalo tutti calcio valpolicella si gode si gode e si gode quest'estate mi sono promanato sul cagliari e sul verona contro i 20 contro i 30 contro gli storytelling vergognosi e oggi noi siamo qui a godere come paporci si gode come paporci sorseggiando valpolicella ascoltando il metal con il nostro ivano iuric e guardando questo verona giocare e insegnare calcio o signore e signori va bene un caro saluto e viva il verona